sindaco datri e ambulanti ai ferricorti a grumo appula dove questa mattina è andata in scena l'ennesima puntata della telenovela sullo spostamento del mercato settimanale i commercianti non possono più stare nella zona 167 secondo il sindaco che ha emesso un'ordinanza per bloccare l'apertura delle bancarelle in quella zona e di dotarle verso la zona pip nei pressi della stazione ferroviaria dove però gli ambulanti proprio non vogliono andare dalle 7 di stamattina ha denunciato il sindaco datri attraverso il suo profilo facebook la zona era pronta con la segnaletica predisposta ai bagni chimici tre vigili erano lì con la piantina per l'assegnazione dei vari posti settore per settore molti mercatali stavano aprendo ed erano convinti poi sono subentrati alcuni individui minacciosi e sindacalizzati scrive il primo cittadino e hanno iniziato a creare problemi molti mercatali sono stati costretti a chiudere e tutti si sono spostati di nuovo verso la zona 167 a questo punto devo pensare che non è vero che si ha voglia di lavorare e agiremo a questo punto di conseguenza è gravissimo quello che è successo oggi denuncerò la cosa alle autorità competenti dal loro canto gli ambulanti raccolti sotto la sigla sindacale di un'impresa base denunciano la mancanza delle necessarie autorizzazioni per lo spostamento definendo illegittima la zona scelta per continuare la loro attività ancora una volta purtroppo gli operatori hanno dovuto soccombere perché non hanno potuto esercitare le loro attività però diciamo che in verità abbiamo fatto un lungo percorso per il ripristino di alcune regole che erano state completamente violate per cui grazie anche all'incontro con il sindaco con il dirigente del settore con il comandante della polizia municipale abbiamo sicuramente trovato il modo per garantire quei diritti che sono inviolabili secondo noi secondo noi che vogliamo fare anche un buon sindacato per cui abbiamo sancito la necessità e l'obbligo che innanzitutto si provveda a redarre una graduatoria degli operatori aventi diritto in modo tale da riconoscere appunto i diritti acquisiti e maturati nel tempo in modo tale che nessuna violazione venga commessa a tal riguardo poi abbiamo comunque stabilito che a giorni ci incontreremo in una riunione qui presso il palazzo municipale di Grumo Appula appureremo alcune cose naturalmente l'obiettivo comune è quello di immediatamente ripristinare il mercato di Grumo